La giunta per le elezioni e le immunità di Palazzo Madama ha votato il testo presentato dal comitato che aveva espresso parere di compatibilità tra l'attività parlamentare di senatore e l'incariconella società Siberia al Messrl di Maurizio Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia Palazzo Madama. La relazione presentata nei giorni scorsi dal comitato incarichi della stessa giunta è passata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza e del senatore Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Già due giorni fa, il 19 dicembre, al termine della riunione del comitato per gli incarichi della giunta per le immunità di Palazzo Madama, chiamata a fare luce sulla vicenda sollevatà da Report, aveva concluso che l'incarico di Gasparri nella Siberia almera compatibile con il mandato di parlamentare. Punto ora il caso, che era stato sollevato dall'inchiesta della trasmissione televisiva di Sigfrido Ranucci, andata in onda nelle scorse settimane, si chiude qui. In sostanza tutto il servizio montato contro il capogruppo di Forza Italia in Senato si è montato. Grazie. Grazie. Grazie.